un saluto a tutti ragazzi oggi andrò a vedere questo versione di realtà virtuale della inexif che è la marca ocean il prezzo è sui 9,99 come vedete è compatibile da 4 pollici fino a 6 ed è regolare la distanza focale andiamo ad averlo ok ed eccolo qua il nostro visore eccolo qua con dentro le istruzioni vedete le lenti l'elastico per tenerlo in fronte e la regolazione e il vano per lo smartphone adesso andiamo a provarlo ragazzi è una cosa spettacolare vedo un orso mi giro vedo la foresta vedo il cielo io vedo ancora l'orso è una cosa spettacolare le api mexico con 10 euro vorrete una realtà tantissima usa bellissima mi vale la pena allora quello che voi vedete risulta così invece qua dentro guardate come si vede sembra di essere in un altro mondo non sembra di essere in cameretta un camera non so se riesco a farvi vedere vedete si vede un altro mondo tutto scusate la qualità del video ma non sapevo bene come farlo ma volevo farlo per far vedere un visore soprattutto per chi è inesperto se vi è piaciuto questo video lasciato mi piace iscrivetevi al mio canale alla prossima ragazzi